ciao a tutti oggi vediamo queste forbici particolari si tratta di forbici molti uso prevalentemente utilizzate per il giardinaggio ma non solo vediamo che hanno tutte un manico arancione in materiale molto resistente le lame sono in acciaio inox tutto made in italy prodotto a premana in provincia di lecco balsassina e in particolare queste sono della ditta pomoni hanno forme diverse vediamo ad esempio la prima primo tipo di forbici che ha la punta dritta il blocco una molla molto resistente e una delle due lame micro dentata la micro dentatura serve a non far scivolare ciò che si va a tagliare in particolare se si tratta di rami fusti questa è una classica forbice da potatura possono essere utilizzate per il taglio di rametti per la raccolta di fiori frutti la raccolta dell'uva per i bonsai il taglio è perfetto e preciso il terzo modello di forbici è questo particolare con la lama obliqua l'inclinazione della lama ci permette di tagliare il cuoio in questo modo si tiene la lama appoggiata sul piano e si va a tagliare anche qui c'è la micro dentatura proprio per non far scivolare ciò che si va a tagliare tutte hanno in fondo un forellino per far passare un piccolo laccetto in modo da poterle tenere sempre a portata di mano è un prodotto di alta qualità che potete trovare sul nostro sito elettronicadidattica.com continuate a seguirci se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale elettronica didattica ci vediamo presto ciao a tutti